Innanzitutto ringrazio il professor Ugo Bardi per la sua disponibilità a questa conferenza in cui si parlerà appunto di intelligenza artificiale e di mobilità elettrica, insomma comunque come verrà declinato è stata anche un po' una sfida anche per noi proporre questo argomento, ma abbiamo già visto che anche l'intervento sull'economia circolare, l'intelligenza artificiale ha fornito delle riflessioni molto utili e molto interessanti. Dirò solo due cose sul professor Bardi che è stato già professore presso l'Università di Firenze ed è autore di vari contributi in settori scientifici diversi dalla chimica ai modelli matematici di esaurimento delle risorse energetiche fossili, divulgatore scientifico anche su temi che a noi stanno molto a cuore come quello appunto dei cambiamenti climatici ed è molto attivo con il suo blog effetto risorse già effetto Cassandra di cui esiste anche una versione inglese ed è tra i blog scientifici più letti in Italia. Poi credo che abbia anche un blog sul fatto quotidiano se non sbaglio. I suoi temi sono appunto esaurimento delle risorse, dinamica dei sistemi, scienza del clima, energie rinnovabili e si è occupato del picco del petrolio e ho sentito una sua bellissima conferenza presso l'Ateneo di Firenze veramente un po' di anni fa, già molto interessante allora perché insomma questo tema del picco del petrolio è una curiosità che credo ci lasci tutti appunto così desiderosi di capirne un po' di più, di tecnologie energetiche ma anche mi piace ricordare di bufale in rete, bufale in rete soprattutto. Tra i modelli matematici più studiati l'effetto Seneca ovvero quando il declino di una risorsa viene più rapidamente della sua crescita. Ma su questo mi piacerebbe che il professore ci spiegasse che cos'è appunto questo effetto Seneca. Ma io lo ricordo soprattutto appunto come autore del trentatresimo rapporto ufficiale del Club di Roma e anche co-editor del volume appunto Limit and Beyond che riprende i temi dei limiti della crescita, cioè i limiti dello sviluppo. Ecco benissimo, tra l'altro è un testo che io ho preso e molto interessante e veramente va proprio studiato con grande attenzione. E il suo ultimo libro, Il futuro del trasporto, come la mobilità elettrica cambierà la nostra vita. Ecco, grazie professor Barri che così ce lo mostra. Vedo anche la coordinatrice di questo ciclo di conferenze che è qui la professoressa Luisella Battaglia e quindi direi che a questo punto siamo anche proprio al completo e quindi io a questo punto lascerei, se Luisella vuole dire qualcosa appunto su questa iniziativa per spiegare anche un po' al professor Bardi che cos'è, io ho già un po' illustrato. Ah, grazie, grazie. Scusate, mi sono collegata in ritardo, avevo una conferenza precedente. No, io sono molto grata a tutti voi e al professor Bardi in questa occasione, proprio perché il nostro ciclo che si chiama, è un ciclo coordinato dall'Ecoistituto e dall'Istituto Italiano di Bioetica, vuole essere proprio un discorso interdisciplinare che ci prepara al Festival di Bioetica e quindi c'è un arricchimento ogni conferenza, veramente uno straordinario arricchimento di temi e di argomenti che ci saranno molto utili per la preparazione del Festival di Bioetica che si terrà quest'anno a Santa Margherita, come di consueto, il 26 e 27 agosto e avrà come tema intelligenze, uomo, ambiente e animali. Quindi questa conferenza è molto attesa, io la ringrazio molto in anticipo per la sua partecipazione. Buon augurio, quindi di buon augurio. Bene, allora lascerei a questo punto la parola al professor Bardi. Assolutamente. Poi dopo eventualmente appunto faremo domande, ci saranno la possibilità di fare domande e interventi. Grazie professore. Bene, grazie mille Pinuccia, grazie mille Luisella. È un piacere avere la possibilità di fare due chiacchiere su argomenti interdisciplinari che credo a tutti interessino, che peraltro l'università non ti permette di sviluppare. Devi aspettare di essere in pensione per poter fare le cose che veramente ti piacciono. Ho sempre detto, sarei andato in pensione quando avevo 25 anni, avrei potuto forse fare di più di quello che faccio adesso. Ma insomma, vediamo un attimino, ci possiamo divertire un po' con varie cose. E in realtà quello che noi chiamiamo intelligenza artificiale è arrivato con una specie di tir che ci ha travolto tutti quanti, ma è poco più di un anno che abbiamo la possibilità di conservare, di conversare, scusate, con dei programmi di intelligenza artificiale a partire dal famoso chat GPT o i vari Aria o le varie bing, eccetera, eccetera, che se avete notato, se ci avete lavorato sopra un po' sono completamente stupidi, saranno anche intelligenti, ma non sono soddisfacenti, fanno degli errori clamorosi di matematica semplicissima, leggono sui, un po' vanno a caso cercando sul web, sono sostanzialmente poco sopra il livello del troll medio che commenta su Facebook. Vabbè, comunque stanno migliorando, però io più che parlare del futuro, forse qui ci possiamo ricordare di una cosa, che voi vedo che nessuno di noi è proprio di primo pelo, quindi forse vi ricordate di questo libro che nella sua prima edizione di Norbert Wiener, Cybernetics, è uscito nel 1941. E ovviamente nessuno di noi penso ci fossero, almeno in una forma capace di leggere questo libro, che è abbastanza pesantino come libro, anzi parecchio pesantino, però è l'origine di molte cose che ci sono oggi, è uno di quei libri che hanno una storia, che hanno una rievanza dopo il 1941, sono 75, 73 anni, ed è difficile trovare libri che ancora si leggono dopo 73 anni, che si ristampano, soprattutto libri scientifici, come pure l'altro libro poco posteriore, non tantissimo posteriore, quello che in Italia chiamiamo i limiti dello sviluppo, io mi nascondo qui dietro, faccio nascondino, che è uscito nel 1972, ma non si legge spesso, non ci facciamo tanto caso, ma fra questi due libri c'è un link ben preciso. I limiti dello sviluppo, Limits to Growth, è in un certo senso un discendente di questo libro qua, perché gli anni 40, anni 50 e anni 60 sono stati i tempi dello sviluppo dei computer digitali che hanno reso possibile fare cose che prima non si potevano fare. Molto semplicemente persone come Wiener sono stati i primi a ragionarci in termini scientifici di base, cioè cercando di fare una teoria di che cosa possiamo fare con un computer digitale, insieme con Alan Turing e altre persone di quell'epoca, e un altro che lavorava su queste cose non è fra gli autori di questo libro, ma era un collega di Wiener all'MIT che si chiamava J. Wright Forrester, che era un genio, un geniaccio, uno dei grandi geni della cibernetica o dell'informatica, di tutte quelle cose che hanno segnato il ventesimo secolo. Per dire che cosa voleva fare Wiener, che cosa voleva fare Forrester, almeno da quello che ho capito, perché non mi pretendo essere un esperto di cibernetica, un termine che ora è desueto, ma all'epoca aveva un significato molto chiaro e molto profondo, stranamente è rimasto solo, è stato assimilato nel concetto di cyberspace, che non ha nulla a che vedere con la cibernetica, come la diceva Norbert Wiener. Norbert Wiener era l'inizio dell'intelligenza artificiale. Cosa possiamo fare con i computer? Una domanda alquanto originale all'epoca, che a parte che mi chiamavano cervelli elettronici una volta, vi ricordate? Electronic brain, che non ci siamo ancora 70 anni dopo, ma magari ora sì, ma all'epoca lui cominciava quantomeno a pensare cosa possiamo fare, che cosa li possiamo utilizzare, che cosa vuol dire intelligenza artificiale, come posso programmare qualcosa che ha un suo andamento, che fa delle cose intelligenti, sperabilmente che non possiamo fare noi, perché se no è poco utile inventare qualcosa che faccia cose che già gli esseri umani possono fare. Negli anni lo sviluppo è stato parallelo, perché i computer hanno fatto un sacco di cose che gli esseri umani non tanto non potevano fare, ma trovavano tedioso, noioso, sviluppare, risolvere equazioni differenziali con metodi alle differenze finite, fare modelli, disegnare cose, fare plot, fare calcoli di vario tipo, ma solo ora si comincia ad affacciarsi a fare qualcosa, forse, forse, forse c'è un momento in cui il computer comincia a fare cose che l'essere umano non era in grado di fare. Allora, adesso vi racconto una mia impressione di questa cosa, potete ragionarci sopra, che così come la vedo io, questo punto di taglio, questo punto di scavallamento scavallamento in cui il computer comincia a dire beh, facciamo delle cose che l'essere umano non riesce a fare e secondo me il punto di scavallamento è stato questo. Per questo libro I limiti e lo sviluppo 1972 è un'applicazione creativa dei computer dell'epoca limitati che fossero, pur limitati che fossero, che andava oltre certe limitazioni degli esseri umani, la limitazione degli esseri umani. Qual è l'limitazione? Una delle tantissime limitazioni degli esseri umani. A cosa serve l'intelligenza? Pinuccia, ti faccio una domanda, tanto non siamo più all'università. A cosa serve l'intelligenza secondo te? Il microfono, microfono. Microfono per... Ma, guarda, direi sostanzialmente per capire, per conoscere. Meglio detto, credo che tu intendi dire esattamente quello che ho in mente io, per conoscere cosa? L'intelligenza, più o meno, a mio modestissimo parere, serve a prevedere il futuro. Cioè, una creatura intelligente, non importa che sia un umano, basta un cane, un piccione, un qualunque cosa, cerca di capire, come detto giustamente, il mondo che ci circonda per quanto possibile prevedere il futuro. Cosa interessantissima che i nostri antenati hanno cercato di fare negli ultimi, probabilmente, non più di 3.000 anni, perché se guardi la letteratura, questo argomento è affascinante che mi ci sono divertito, non è che io sia un cultore della letteratura classica, ma se ci vai a lavorare sopra ti accorgi che a un certo punto c'è qualcuno che comincia a ragionare sul futuro, ma non da epoche molto remote, c'è un periodo molto lungo nel passato, anche prima, per la scrittura in cui del futuro non si parla, nessuno si preoccupa del futuro, leggi l'Iliade, non ci sono profezie, non c'è nessuno, avverrà più tardi, qualcuno ha rilavorato l'Iliade, ma la versione originale Cassandra la profetessa che tu hai menzionato nell'introduzione, Cassandra nell'Iliade non è una profetessa, non c'è scritto in nessun posto che lei fa profezie, ci avviene molto dopo, durante il primo millennio avanti Cristo arriva la storia di Edipo, che gli arriva questa cosa, che lui va all'oracolo di Delfi e l'oracolo di Delfi gli spara questa cosa, immaginatevi voi di essere all'oracolo di Delfi, oracolo, qual è il mio destino? L'oracolo dice, tu ucciderai tuo padre e sposerai tua madre, oracolo, senti, dammi il biglietto che ho pagato per età, perché non ci siamo proprio, eppure, è forse veramente la prima profezia nella storia e l'oracolo di Delfi o tutti gli oracoli di quell'epoca, ci credevano completamente, leggendo i documenti di quell'epoca, ci credevano in modo totale, così come noi crediamo alle leggi della termodinamica, per gli antichi l'oracolo di Delfi era altrettanto solido, referenziato, sostanziato, assoluto di quanto non lo fossero per noi le leggi della fisica. Un altro mondo, ma dato che si può più diverso. Allora, che cosa vuol dire? Per prevedere il futuro ci vuole qualche strumento, qualche mezzo, qualche idea, qualche cosa, perché da solo tu, sì, vedi tante cose che ti circondano, parli con Pinuccia, parli con Luisella, si parla, ma cosa succede? Hai letto le previsioni del tempo? Sì, ma insomma, siamo molto, molto limitati noi e questo libro qui è un'applicazione dell'intelligenza artificiale alla previsione del futuro, per quanto possibile, non tanto a una previsione, quanto a una visione che è una cosa diversa, non è un oracolo, questo non ho mai preteso di esserlo, e, però, Forrester era un contemporaneo di Wiener, usava sistemi di calcolo molto simili, usava un approccio abbastanza simile, Wiener cercava di capire più o meno come gestire, come far funzionare un computer che avesse una certa capacità di riprodurre la cosa che ci sono nella testa umana, secondo me Forrester era ancora un po' più avanti, perché diceva, aspetta, non ci preoccupiamo di questo, perché per un computer era un po' troppo difficile, vediamo di usare il computer per fare qualcosa che l'intelligenza umana non può fare, e Forrester, ragazzi, se leggete cosa ha scritto, era veramente uno che di cose ne sapeva, e tante, e pensava delle cose che non tutti pensavano, cosa è che manca all'essere umano, manca la capacità di gestire un gran numero di parametri, un gran numero di parametri, perché noi non abbiamo la capacità di gestire una cosa più di due, tre, forse pochi parametri, più di uno, uno pensa, è tipico dell'essere umano di focalizzarsi su una sola cosa, di pensare, mi fa freddo, devo fare qualcosa, devo trovare qualcosa da mangiare, non riesci a vedere molto spesso il totale della vicenda, e ora vi faccio vedere un esempio molto semplice delle limitazioni degli esseri umani, vediamo se riesco a raccontarvelo in un modo comprensibile, oggi non vi faccio, sto facendo un esperimento di non farvi vedere il classico powerpoint, e invece di fare lezione come si faceva una volta alla lavagna. Allora, Jay Forrester, questo geniaccio che è morto nel 2019 a 101 anni, oltre ad essere intelligente era indistruttibile, ha inventato un nuovo campo della scienza da zero, come cose può fare Galileo, questa gente qua, Newton, inventano campi della scienza completamente da zero, Forrester inventa quel campo che si chiama System Dynamics, la dinamica dei sistemi. La dinamica dei sistemi è un modo di vedere l'universo sfruttando la capacità del computer di gestire molti parametri, cosa che il cervello umano normalmente non riesce a fare. Vediamo se riesco a spiegarvi come funziona. Allora, da questa parte scriviamo risorse. Bene, lo leggete? ce la fate. Le risorse sono qualcosa che serve a fare qualcosa, sono un coso che fa delle cose, che qual è il coso che si fa? Con quel coso si fa, si trasformano le risorse in capitale industriale, il quale poi produce una roba che si chiama inquinamento. semplice, fin qui ci siamo. E già questi tre parametri gli esseri umani hanno delle difficoltà a gestirseli, perché non è semplicemente così lineare da A a B e da B a C. C'è un fenomeno che Forrester aveva intuito che si chiama feedback, che in italiano qualche volta chiamiamo retroazione, che però tendiamo a usare di più il termine inglese feedback. Feedback vuol dire che questa entità qui ha un effetto su questa, scusate, non questo, non è solo il capitale industriale, le risorse che crea il capitale industriale, ma il capitale industriale ha un effetto sulle risorse, perché mentre tu crei capitale, che questo si indica di solito con segnettino più, tu distruggi risorse e così come l'ho scritto, siccome non c'è nulla che crei risorse, ma potrebbe essere petrolio, potrebbe essere un minerale qualsiasi, hai un loop che via via che aumenti questo capitale riduci quello delle risorse e lo stesso l'inquinamento ha un effetto sul capitale industriale, perché l'inquinamento danneggia del tuo capitale il quale piano piano si dissipa nell'inquinamento e quello che gli economisti chiamano il depreciamento. Fin qui dice, ma vabbè Ugo ci stai raccontando cose che sappiamo bene, eppure questa cosa non torna, non vanno la testa della gente se parlate con l'industria petrolifera, questo risorse, loro non hanno chiaro la dinamica di questo sistema. Poca gente ce l'ha, perché si parla con l'industria petrolifera mi dite cosa succede col petrolio? Noi abbiamo un tot di riserve, un tot, tanti miliardi di barili, e che vuol dire? Vuol dire che abbiamo ancora 50 anni di risorse di produzione petrolifera, cioè in funzione del tempo, questo è il tempo, secondo un'industria petrolifera dovrebbe essere qualcosa, non lo dicono esplicitamente, ma a un certo punto X, tempo zero, 50 anni di risorse per esempio, o 40 o 30 secondo i vari calcoli, il meglio che loro riescono a dirti è che la tua produzione petrolifera se fosse costante durerebbe 50 anni. È una visione del tutto lineare perché se uno ci fa caso anche solo 5 minuti dice ragazzi ma aspetta vi sembra possibile che uno fra 50 anni uno va a vedere la bocca dei pozzi e dice ce n'è più come se fa non funziona così e questo semplice sistema di loop di cicli in cui più risorse hai più crei capitale più capitale crei più consumi risorse più capitale industriale hai più crei inquinamento più l'inquinamento ti colpisce il capitale industriale è un sistema dinamico che non si gestisce con un'equazione non c'è un'equazione di questo sistema non ce l'hai non c'è un'equazione newtoniana di la forza uguale alla gravità coefficiente per m1 m2 fratto r4 e non lo trovi a meno che sembra semplice a meno che non usi un computer per fare un un semplice per il computer semplice per un calcolo alle differenze finite perché il computer per forza lavora le differenze finite che ti dice come va questa curva e non è così come vi potete aspettare la curva vera è qualcosa di questo genere che la potete calcolare allora già con questa cosa molto semplice molto semplice se non ve la gestite con un computer che vi da con una intelligenza che ti manca perché su tre risorse non riesci a gestirtele normalmente almeno non con tutti poi quando gliel'hai spiegato ma era ovvio sì però finché non è arrivato Forrester a dire guarda questo funziona in questo modo e ti fornisco un metodo di calcolo per calcolarlo ancora non c'è arrivato nessuno sì forse sì in realtà se andate un po' indietro nel tempo trovate James Lotka quello della la biologia oppure il nostro Vito Volterra che avevano sviluppato queste stesse equazioni che poi usò Forrester qualche Volterra e Lotka nei 20 anni 30 del secolo scorso quindi funziona ma avete bisogno di uno due tre parametri e un certo numero di costanti che vi gestiscono l'interazione fra questi parametri il che vuol dire che ottenete una curva inaspettata ma curiosamente ora ripeto Pinuccia queste cose le sa altrettanto bene di me perché hai citato il picco del petrolio il picco del petrolio è un'entità che viene fuori per un'intuizione di un signore che si chiamava Hubbert nel 1956 diceva secondo me la produzione petrolifera seguirà questo andamento non perché lui avesse in mente questo tipo di cosa ma perché probabilmente non lo spiegò mai veramente ma aveva in mente dei dati storici funzionavano in questa maniera allora dice se è così per esempio il carbone della Pennsylvania probabilmente si basò su quello sarà anche quello del petrolio e gli andò abbastanza bene su questo però quello che volevo farvi notare è che ancora oggi parli con quelli che si occupano del picco del petrolio da 20 anni o da 30 o anche da 56 ma anche di più però a questo punto non ce l'hanno chiaro da cosa perché c'è il picco del petrolio ed è una cosa strana che io ho sempre cercato di dire guardate ragazzi non è poi così difficile sono l'equazione di Locca Volterra quella in biologia sì no però insomma c'è chi non ci crede non glielo spieghi perché se uno è un geologo spiegare delle equazioni dinamiche nella biologia alle popolazioni comincia a diventare un tantinello difficile ma non è colpa loro sanno tante cose non è assolutamente dai stupidi ai geologi che poi fra l'altro sono tizi anche che si arrabbiano facilmente quindi per carità mai mi sognerei di dire una cosa del genere però vedete se la utilizzate se capite questo semplice loop vedete anche quello che che Pinuccio aveva citato se l'inquinamento è importante se non è molto importante è una curva simmetrica che non ha un'equazione analitica che la descriva viene fuori da questo loop se l'inquinamento è importante il loop di ritorno allora una curva a questo andamento qui è l'andamento che si chiama Seneca questo perché anche qui la gente ma qua questa cosa Seneca il filosofo romano che avete studiato al liceo probabilmente anche io l'ho studiato un po' al liceo ma questa idea mi l'ha data Luca Mercalli per vostra curiosità che si parlava di tante altre cose ma ti ricordi Seneca aveva detto sì è vero ma vero l'avevo studiato anch'io Seneca Seneca non sapeva di equazione differenziale aveva fatto un'osservazione diceva guarda le cose crescono lentamente e crollano rapidamente ed è questo si vede in tanti effetti tipo il castello di carte quando rovesciate il caffè o cose del genere ma anche questa curva qui la curva di Seneca non ha un'equazione analitica lo potete solo risolvere in questo modo ed è una cosa che il cervello umano non lo può fare non lo fai non ci riesci perché devi seguire step by step tre stock e svariati loop di interazione e lo puoi fare sì è un lavoro immenso sicché questo qui a mio modesto parere è una delle prime applicazioni dell'intelligenza artificiale è una delle prime applicazioni in cui il computer fa una cosa non troppo difficile come vedete ma che il cervello umano da solo non riesce a fare perché non ti riesce a gestirti così facilmente come potresti gestire tutti questi parametri o ti gestirsi Newton dice questo forza di gravità cade parametro peso forza di gravità due parametri vai e sentite questo la mia pendola aspettate un attimo che questa è una pendola che apparteneva al bisnonno di mia moglie quindi l'abbiamo restaurata e ora sta nel sta nel mio studio che succede questo tutto sommato lo potete ancora assorbire se ci fate caso dopo un po' diventa abbastanza normale abbastanza logico però potete aggiungere perché da solo ovviamente un sistema reale come l'economia mondiale c'è anche uno stock che si chiama popolazione c'è uno stock che si chiama agricoltura e già questo la popolazione agisce sulle risorse sul capitale industriale l'agricoltura agisce sulla popolazione anche quella sul capitale industriale poi crea inquinamento quindi già vedete comincia a essere una cosa moderatamente complicata e il risultato è questo vedete qui su questa mia maglietta che rappresenta la si è attorcigliato il filo scusate che rappresenta l'essenziale dei calcoli della prima edizione dei limiti e lo sviluppo e la stessa curva che c'è qui la vedete riprodotta su questa maglietta è un sistema fatto nel 1972 un calcolo con molto più di 5 ma sostanzialmente erano 5 stock che funzionavano che ecco questa è veramente la prima a mia opinione applicazione dell'intelligenza artificiale che va a esaminare un sistema fisico che la mente umana non riesce ad abbordare vi faccio vedere il modello eccolo qua riportato per esteso vedete è un modello però sostanzialmente basato su 5 stock principali più alcuni secondari non avete la capacità e la possibilità di gestirvelo come nella vostra testa la vostra testa non è fatta per gestirsi un sistema a 5 stock con tutti i possibili loop di feedback che implica l'evoluzione di questi stock però se vedete bene queste curve vedete che l'andamento è lo stesso queste curve qui hanno il tipico andamento di Seneca che cosa vuol dire il capitale cresce sulle risorse però le esaurisce piano piano le riduce quindi c'è un feedback negativo che le impedisce di crescere oltre certi limiti se non ci fosse l'inquinamento lo stesso non potrebbe crescere per sempre perché piano piano esaurisce le risorse ma una certa quantità di risorse anche viene ricreata quindi ci sono altre possibilità ma in una prima semplificazione l'inquinamento va a colpire il capitale industriale con un delay con un certo tempo di attesa per cui quando il capitale comincia a trovarsi in difficoltà a estrarre delle risorse che sono in via di esaurimento a quel punto si prende anche la botta di ritorno dell'inquinamento che nasce dal capitale più cose produce più inquinamento produce più devi utilizzare capitale per combattere l'inquinamento perché se no ti trovi avvelenato affogato o con altri vari problemi nel nostro mondo quando fu fatta questo conto nel 1972 l'inquinamento veniva semplicemente chiamato inquinamento oggi lo chiamiamo riscaldamento globale che è il il problema principale che abbiamo di fronte quello più deleterio quello anzi non tanto deleterio quanto semplicemente mortale ma il risultato è sempre lo stesso cioè è quello che noi chiamiamo collasso io uso questo termine l'ho coniato io in questi vari studi che si chiama il collasso di Seneca non perché Seneca facesse risolverse equazioni differenziali poveraccio Seneca non so se vi ricordate aveva scritto le cose noiosissime scusate un goccio di caffè ma le sue lettere al suo amico Ricilio dove viene fuori con queste genialate dice accorda Ricilio se le cose sarebbe bello se le cose andassero sempre come lentamente come crescono e scendessero altrettanto lentamente di come sono cresciute invece no incrementa lente exeunt sed festi naturi in damnum così ho fatto anche ti ho parlato anche in latino siete contenti allora che succede a partire da questo punto e poi si va a fare una serie di modelli modelli possono essere qui qui vi ho messo cinque stock prendete uno studio di questo genere che è questo qui una terra per tutti il penultimo anzi questo è proprio l'ultimo quello che hai citato tu pinuccia quello che ho scritto io come editore ho scritto anche un capitolo ma sono l'editore quello è il ventitresimo questo è il ventiquattresimo è arrivato dopo ed è un altro studio sostanzialmente un discendente di questo qua siamo cioè il 2023 questo è il 1972 siamo 51 anni dopo 51 anni dopo ma l'idea è sempre quella non è diverso qui non trovate non trovate lo stesso schema questo è ancora abbastanza semplice che in questo libro ci potete trovare la ricetta essenziale cioè qui c'è proprio il modello quello utilizzato ecco e questo qui sta in due pagine ed è comunque fuori delle capacità di una mente normale umana di gestirselo questo qui è un modello enormemente più complesso potete andarvelo a vedere è stato pubblicato anche questo io non ci ho lavorato sopra direttamente su questo modello non ho esperienza diretta con questo particolare modello che è uno di quei modelli che si chiamano IAM che si chiama Integrated Assessment Model dove c'è dentro altri parametri per esempio l'inquinamento mentre nel primo modello era uno stock cioè un numero un indice di inquinamento qui c'è l'inquinamento è distinto in tutti i vari effetti inquinamento metalli indrocarburi plastica cambiamento climatico riscaldamento e contiene anche un link a dei modelli climatici abbastanza evoluti che ti dicono come il cambiamento climatico effetti sull'agricoltura sulla popolazione e sulle risorse quindi vedete che questi modelli sono estremamente evoluti io su questo non ripeto non ci ho lavorato però ho lavorato su un altro modello sviluppato qualche anno fa che si chiamava Medeas anche qui con la cosa classica non si sa mai questi modelli non tirano fuori antichi miti facilmente tipo Medea Seneca la pitonessa di Delphi c'era una mia amica che si occupava di petrolio e faceva predizioni veniva comunemente chiamata la pitonessa se non si sa la pitonessa si sa chi erano le ragazze delle contadinelle prese lì un po' affumicate un po' avvelenate straparlavano e questo era l'oracolo di Delphi allora questo vedete secondo me secondo la mia modesta opinione è il core il punto essenziale il punto centrale il punto base dove l'intelligenza del computer va a avere un impatto sulla capacità umana di fare quella cosa che è la predizione del futuro tra l'altro certe volte faccio vedere il proposito di oracoli una palla in realtà è tutto finto questo noi generalmente usiamo la sfera di cristallo il club di Roma ma a parte questo quello che manca per ora a questi modelli è semplicemente l'interfaccia vocale l'interfaccia verbale cioè questo qui è un libro in cui vi dice ho fatto dei calcoli gli autori hanno fatto un sacco di conti e vi dicono dati certi certi input ne consegue certi certi risultati quindi ma non puoi qui da questo libro dice ma se io cambiassi questo cosa succederebbe non lo puoi fare non dal libro lo puoi chiedere però agli autori i quali gentilmente si dico ma caro Mr. Randers l'autore principale uno degli autori del primo studio del 1972 Jorgen Randers dice ma se io cambiassi questo cosa succederebbe dice ma non lo so però vado a far girare il programma e poi te lo dico cosa che con quell'altro modello che abbiamo sviluppato con altri in collaborazione con altri gruppi in Spagna e in Germania qualche anno fa con questo Medeas noi facevamo facevamo anche dei seminari in cui radunavamo tipicamente degli studenti in cui si diceva ragazzi cosa volete sapere cosa volete sapere dal modello e i ragazzi dicevano ma che succederebbe se fermassimo per esempio l'espansione demografica oppure c'è una guerra nucleare molto più radicale che succede fai girare il modello ci vuole però una persona che lo sappia fare cioè non lo fa uno che non ha un minimo di training perché devi preparare un file di input che ha tutta la sua la sua formattazione dopodiché la mandi e lo dai al programma e poi gira e ti dice che cosa si aspetta che succede questo io credo che si svilupperà abbastanza breve cioè a mia modesta opinione modelli di questo tipo anche se per ora no ma a breve scadenza avranno delle interfacce human language human language interface nel senso che tu puoi andare a parlare con Earth4All usando lo stesso linguaggio che usi con chat GPT e dice senti Earth4All mi dici secondo te cosa succede e lui te lo dice e siamo arrivati esattamente alla situazione della pitonessa di Delphi in cui Edipo va dalla pitonessa gli chiede una cosa ma quella ti inventa una cosa strana che però è venuta fuori che è vera quindi il rischio di questi modelli è che o sono o non li capisci ti dicono delle cose che faresti meglio a non agire a non fare perché se Edipo non avesse dato retta all'oracolo non sarebbe scappato a giro per la Grecia tra incontro un tizio che è abbastanza vecchio da essere suo padre e per l'appunto l'ammazza incontra una donna abbastanza vecchia da essere sua madre e se la sposa dico Edipo scusa ma ci siamo proprio ma comunque sono errori che si fanno comunemente nel campo della previsione del futuro moderna basata su questi metodi di calcolo che se tu sai cosa stai facendo ti accorgi che non sono previsioni non sono oracoli sono semplicemente delle risposte alla domanda che succede se punto interrogativo e se li prendi in questi termini allora sono utili che succede se per esempio sviluppo la trazione elettrica e trasferisco il modello lo trasferisco sul modello e dico beh smetto di usare petrolio e in n anni forse 5 anni forse 10 trasferisco la mobilità basata sul petrolio o una mobilità basata sull'energia elettrica rinnovabile possibilmente anzi sicuramente rinnovabile l'alternativa potrebbe forse essere nucleare ma quello ci vorrebbe molto più tempo per tirarlo fuori allora che succede l'idea di lavorare sulla sulla trazione elettrica è un risultato di questi modelli io personalmente non sono tanto a favore di questi modelli complicati ci ho lavorato sopra ci ho perso tempo non su questo ma questo è un esempio di questi modelli IAM Integrated Assessment il problema di questi qui detto fra noi non lo dite a quelli che ci lavorano veramente ma che ti siedi fuori quello che vuoi cioè se vuoi che questo modello ti dica che Edipo sposa sua madre poi secondo me trova dei parametri e ti viene fuori con questa con questa cosa però lavorando su modelli più semplici io tendo a lavorare quando posso su modelli 3, 4 5, 6 non di più di stock in cui li usi per vedere come una variazione di un certo stock ti tira fuori ti muove tutto il sistema e questi sono dei calcoli molto più semplici che ti servono non per fare predizioni quantitative che comunque anche se le potessi fare sarebbero sempre sbagliate ti servono per fare per capire come il sistema reagisce alle perturbazioni che è una cosa ben diversa io dico spesso uso questo termine un sistema complesso che sono questi sistemi basati su Facebook è come un gatto il gatto non c'è un'equazione del gatto però il gatto lo capisci insomma lo sai cosa fai non sempre però alle volte il gatto ti sorprende però sai che se ritiri la coda non è contento per dire questi modelli se li capisci cosa succede allora per concludere questo ragionamento che vi ho tediato per diciamo una mezz'oretta poco più però non vorrei tenervi di più che succede questi modelli possono essere anche letali non il modello in sé ma ti possono dire che il sistema è letale il gatto non è un gatto ma è un leone e ora ti mangerà quando vai a fare certi conti ti accorgi che l'inquinamento può andare avere degli ulteriori loop che vanno a finire che distruggono la civiltà umana vai a fare la fine dei maia degli azzechi dei romani di tutti quelli che sono andati sono crollati al limite all'estinzione cosa che può anche avvenire allora quindi lavori su questi modelli per cercare di capire come li puoi mettere in che modo su quali parametri agire per evitare questi questi scenari un po' estremi che ripeto non sono previsioni sono possibilità il modello e se parlate con i climatologi vi dirà sì certi modelli in certe condizioni non lo dicono ufficialmente per evitare la fine della specie umana l'estinzione totale insomma ci sono e ha una possibilità ma il modello dice cosa succede sì se tu gli dici certe cose il modello ti dice vabbè vi estinguete ah dico grazie un po' come tipo dico e ora che faccio niente ti devi sposare tua madre insomma c'è niente da fare quindi viene fuori che le ultime cose che abbiamo visto su queste su questa gestione del sistema è che è possibile evitare questi scenari estremi se lavoriamo con una certa rapidità e non sono solo il solo io che ve lo dice chiaramente sull'eliminazione dei combustibili fossili dal sistema il grosso problema cioè il trasporto elettrico che qui viene indicato da questa macchinetta un po' buffa con la spina ma non è tanto una questione dell'automobiletta elettrica o del SUV elettrico è che se ci lavorate sopra vedete subito che la riduzione rapida perché a questo punto ho fatto un altro stock qui che è energia rinnovabile il quale va a creare capitale industriale e agisce negativamente sul petrolio a questo punto vedi che il collasso di Seneca diventa un'arma contro il petrolio che lo fai crollare e questo qualcuno l'ha capito non tutti ma i petrolieri l'hanno capito benissimo perché la spiegazione della campagna denigratoria che c'è in giro sui veicoli elettrici ha una ragione se i veicoli elettrici non fossero un pericolo mortale non per noi che non siamo petrolieri a meno che qualcuno di voi non sia un petroliere il pericolo mortale è per l'industria del petrolio perché se diffondi veicoli elettrici stradali vuol dire il buon 70% del petrolio prodotto al mondo va in carburante per veicoli stradali se tu togli all'industria del petrolio il 70% del suo mercato non è che rimane con il 30% rimane a zero crolla con l'asso di Seneca ed è per questo che la l'industria del petrolio sta reagendo come può comprensibile cioè dal mio punto di vista di essere umano che ancora spero di essere a giro per qualche anno su questo pianeta io cercherei personalmente di sopravvivere più io che l'industria del petrolio per quanto possibile purtroppo questo tipo di ragionamento dinamico in cui in cui vedi come i sistemi interagiscono i vari stock del sistema interagiscono fra di loro non è chiaro a tutti e c'è una affezione abbastanza importante del movimento cosiddetto fra virgolette ambientalista non si rende conto dell'importanza cruciale fondamentale basilare di eliminare i combustibili liquidi quello è il punto cruciale se riusciamo a eliminarli entro una decina d'anni possibilmente meno ma insomma una decina d'anni forse ce la possiamo ancora fare altrimenti il sistema va per conto suo cominciamo ad avere dei sistemi dei collassi ecosistemici e a quel punto è anche possibile che non ci riprendiamo più e tra le altre cose vi invito a leggere i risultati degli ultimi e concludo con una nota di divertente di ottimismo gli ultimi risultati dei calcoli su quella che si chiama l'AMOC avete sentito parlare sapete cos'è l'AMOC l'Atlantic Atlantic Meridional Overturning Current cioè la corrente meridionale atlantica overturning non so come la traducete ma insomma è girellante e se quella collassa i risultati dei modelli ci dicono che collassa in una cinquantina d'anni forse anche meno e se collassa la corrente oceanica beh come diceva come si diceva è un altro pianeta un altro pianeta glaciazione del nord Europa desertificazione del Mediterraneo sparizione del i modelli ci dicono sparizione della foresta amazzonica sono cosette del genere e un altro pianeta che a mio modesto parere possiamo evitare se ci muoviamo con decisione in una direzione ben precisa e su questo direi di concludere l'intelligenza artificiale ci aiuta ci può aiutare se la sappiamo usare con un po' di intelligenza ma al momento non ho visto grandi grandi usi intelligenti dell'intelligenza artificiale a parte a parte per usi militari che che però ho un altro ragionamento e quindi grazie per la vostra attenzione grazie veramente molto 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 interessante e tra l'altro appunto credo che veramente lasci spazio anche a molti interrogativi e molte domande quindi io darei subito la parola ad eventuali appunto domande o interventi se stai parlando c'è il microfono è chiuso no totalmente il contrario di quello che avrei voluto no tanto io trovo che il rapporto del club di Roma sia veramente un qualcosa di epocale e non so se Pinuccia ti ricordi che avevamo anche pensato nel 22 di ricordarlo ecco perché i 50 anni perché ha rappresentato veramente un punto di svolta cioè questo concetto di sviluppo che era nella nostra mente legato all'idea di progresso parlare di limiti allo sviluppo cioè parlare di risorse che la terra che non erano rinnovabili eccetera è stato veramente qualcosa di importante anche se diciamo non lo possiamo enfatizzare più di tanto perché della mia visione era ancora una forma abbastanza sono io che non sento più è Luisella che ah sì no 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 io non sento più niente intanto aspettate ecco ecco noi sentiamo noi sentiamo stavo semplicemente avevo premuto avevo premuto il pulsante sbagliato scusa Luisella mi vuoi riassumere mi sono perso tutto quello era semplicemente volevo menzionare l'importanza del rapporto del club di Roma perché quando io nelle mie lezioni io insegno filosofia morale però bioetica soprattutto e quindi con i miei studenti io sottolineo che questa è stata una svolta epocale perché ha rappresentato proprio l'idea il crollo di quello che era il mito l'ideologia del progresso e cioè che sviluppi uguale progresso e che le risorse della terra fossero qualche cosa che noi potessimo assolutamente consumare quindi questa idea di uno sviluppo che non si identifica col progresso e l'idea dei limiti che poi è un'idea classica un'idea antica etica dei limiti eccetera sono stati determinanti anche se ecco se dovessi dire siamo ancora un po' all'interno di una visione antropocentrica sia pure un antropocentrismo debole quello del club di Roma no? cioè sono gli interessi dell'uomo che devono essere salvaguardati ma lo dico così con molta senza alcuna pretesa di critica è semplicemente una constatazione siamo andati avanti e poi negli anni abbiamo pensato ad altri modelli il modello della preservazione delle risorse però ripeto questo dei limiti è assolutamente fondamentale quindi io sono molto grata di averlo ricordato mi dispiace ecco che sia stato poco seteleneato perché le mie curiosità sono molte come questa idea del trasporto elettrico si possa attuare concretamente quali sono i suoi costi perché io vorrei molto valorizzare questa idea come proposta operativa all'interno del festival quindi io ti chiederai se fosse possibile di darci qualche informazione in più ma eh sì appunto ho scritto un libro intero un libro intero sopra ma in realtà non è che ho scritto tanto ho scritto un libro e dal che lo presenti ce lo presenti nel 2005 io avevo il mio primo motorino elettrico quindi sono passati quasi vent'anni perché già nel 2005 quando cominciavo a interessarmi di petrolio già me ne interessavo mi ero accorto di questa cosa intuitivamente ehm se finisci il petrolio comunque ha bisogno di trasporto e insieme con alcuni colleghi amici e persone interessate abbiamo cominciato a lavorare sui veicoli elettrici facendo varie cose all'epoca era era una cosa ancora un po' pionieristica abbiamo fatto anche degli errori per esempio di non eravamo troppo avanzati detto francamente abbiamo mi sono trovato a essere il il manager di un team di ingegneri che produceva aveva progettato e prodotto un veicolo elettrico agricolo su un progetto della commissione europea figurati vedi che cose ti capita nella vita e in quell'epoca però era troppo avanti cioè siamo nel 2000 fai conto 2009 2010 un veicolo ancora con le batterie a piombo è carino funzionava bene era una cosa bella ora sta in libano era un progetto di quelle mediterranei immagino sopra ci hanno messo una mitragliatrice adesso però a parte questo è un veicolo troppo avanzato ma ora siamo al alla svolta tecnologica la svolta tecnologica vuol dire se ti posso far vedere qualcosa aspetta vediamo se riesco a fare uno share screen aspetta un secondo aspetta share screen vediamo se te lo faccio vedere questo più o meno lo vedete quando quando parto con l'aspetta che non riesco a farlo un secondo solo volevo farlo vedere completo eccolo qua questo è un quadro di Waterhouse un pittore un pittore neoraffaellita con questa palla di cristallo ma non è questo ti volevo far vedere perché ci sono tantissime cose qui in cui faccio questi ecco questi sono i miei primi veicoli elettrici come vedi e questo è il mio primo motorino siamo le 2006 quello che vedi in fondo a sinistra è quel trattore elettrico non è un trattore è un veicolo elettrico per l'agricoltura questa 500 retrofittata a batteria uno dei primi veicoli a batteria a litio che è una meraviglia che non l'ho fatta io questa però è un signore che si chiama Pietro Cambi che si interessava anche lui di petrolio aveva seguito lo stesso ragionamento mio e questo era l'effetto Seneca capisci ecco quello che ti volevo far vedere era questa questa illustrazione qui vedi l'effetto Seneca è molto reale e qui si applica al crollo di un'industria che si chiamava nel 2000 quando eravamo qui nel 2000 qualcosa che si chiamava Blockbuster Blockbuster ti noleggiava le videocassette vi ricordate c'era una volta questa usanza a un certo punto è stata surclassata e da un nuovo tipo di tecnologia Netflix invece faceva già le cose che facciamo oggi ti noleggiava il film che vedevi direttamente sotto schermo e questo tipo di cosa io uso questo modello perché è un modello storico poi fanno anche dei modelli quantitativi ma quello che succede è quando una nuova tecnologia entra in azione allora la vecchia tecnologia scompare non lo puoi evitare a meno che non lo fai con le bombardi cioè ci mandi i bombardieri la distruggi può anche succedere ma non è che noi dobbiamo fare niente di particolare per favorire la transizione dal termico all'elettrico ma non serve niente perché ormai è partito quell'unica cosa che non dobbiamo fare e fare una campagna propagandistica planetaria contro l'elettrico a quel punto un sacco di persone normalissime persone che che non hanno la condizione tecnica di capire quando gli raccontano una bufala si inconvincono di varie cose tipo l'elettrico brucia che l'elettrico non funziona quando è freddo che non puoi andare a trovare la zia quando perché ti ritrovi con le batterie scariche che l'elettrico non vale nulla quando lo vive tutte cose nel libro c'è una un capitolo intero sulle bufale che ma non è molto efficace andare a sbufalare perché è un mestiere magari anche divertente ma la gente quando una volta che si è convinto di una cosa come forse avrete provato anche voi non so se avete mai provato a parlare di clima con qualcuno che è convinto straconvinto è tutto un imbroglio degli scienziati come noi i quali si fanno ricchi come sapete ci siamo tutti arricchiti spargendo bugie sul cambiamento climatico ma non la vinci quindi purtroppo la situazione è rischiosa perché è anche possibile che qualche politico cavalchi l'onda dello scontento di queste bufalaggine che è a giro e faccia dei provvedimenti effettivamente per scoraggiare l'uso dei veicoli elettrici perché guardate ripeto un articolo che ho scritto sul fatto ha usato il termine una pistola puntata contro l'industria petrolica e i petrolieri se ne rendono conto perfettamente cioè questo cambiamento qui vuol dire la banca rotta vuol dire che vai giù a zero non è che dice continuo zero perché a quel punto sei in una situazione in cui finché c'è un certo mercato riesce a produrre a un certo costo ne hai meno mercato e il costo aumenta perché devi produrre in altri modi e quindi poi a un certo punto ti trovi se fuori mercato vai in banca rotta fine e questo a mio modesto parere ripeto è l'unica cosa che ci può ancora salvare perché se noi non facciamo non vediamo questa banca rotta allora non ce la facciamo se continuiamo ancora per 10-20 anni a tirare fuori le ultime robacce che si possono trasformare in combustibili liquidi allora siamo veramente nei guai ci ritroviamo con i ghiacciai che arrivano a Parigi o chissà che diavolo succede perfetto quindi l'ambientalismo genericamente inteso non è sufficientemente attento a queste all'importanza di questa lotta questo è l'oricoferri non lo so Luisella molti l'hanno capita perché mi sembra che l'hai detto l'ambientalismo non si rende conto dell'importanza si l'ho detto spesso non se ne rende conto c'è un ambientalismo un po' obsoleto ma ci sono ci sono persone invece se ne rendo conto benissimo non so voi che esperienza avete dipende un po' con chi ha c'è un quesito c'è un quesito nella chat online sì infatti volevo dire a Marco Lobardi se vuoi dirlo tu oppure lo si può leggere semplicemente nella chat Marco se vuoi sì sì benissimo mi sentite siccome io mi sono tolto come video perché ho una pochissima banda sono sto collegando il pc sul cellulare sono in un posto dove prende veramente male spero che mi sentiate l'osservazione che facevo guardando anche la copertina dove sullo sfondo in lontananza si vedono delle belle torri eoliche si vedono gli oggetti che generano questa energia mi pare che tanti non si rendano conto che per avere questa transizione verso l'elettrico sia necessario che ce ne siano tante tante di queste torri eoliche e tanti parchi fotovoltaici cioè non basta mettere sul balcone un pannellino perché ne consumiamo veramente tantissime energie noi quindi se vogliamo fare una transizione verso il tutto elettrico e smettere di usare le fossili dobbiamo accettare queste cose perché energia ne consumiamo tanta dovremmo come minimo in Europa America nei posti dove se ne usa tantissimo dovremmo come minimo dimezzarla meglio forse ancora farla diventare un quarto ma guarda che siccome l'auto elettrica è tre volte più efficiente di quella termica allora automaticamente anche nell'ipotesi che tu voglia fare un cambiamento uno a uno che probabilmente non faremo ma già riduci di un terzo l'energia usata nel settore ha un terzo l'energia usata nel settore dei trasporti che è un enorme miglioramento osservavo che questa diminuzione nell'utilizzo di energia tanta gente lo vede come una perdita di status una cosa terrificante vedo che le persone qui presenti non sono non ne vedo quindicenni quando ero ragazzo io è lo spirito che conta la pinuccia è lo spirito ancora della quindicenne quando ero ragazzo io tutto sommato non c'è ancora una ragazza entusiasmo non c'era una vita terrificante e di energia ne consumavamo molto molto poca e sarebbero livelli di consumi ai quali probabilmente noi dovremmo ritornare e che per metà del mondo sarebbe un grosso balzo in avanti cioè non possiamo fare i conquistadores e tenere gli altri sotto il tallone dobbiamo lasciarli sviluppare ma dobbiamo noi smettere di essere delle persone che sprecano tutto quanto inclusa l'energia mi aggancio per fare anche io appunto una domanda il sottotitolo del tuo libro dice appunto come la mobilità elettrica cambierà la vita e secondo me qui c'è la grande intuizione a proposito di analisi in base appunto a sistemi dinamici insomma capire quello che succede ecco qui secondo me la domanda è proprio questa effettivamente in che senso appunto cambierà la vita io credo appunto che ci saranno dei grandi cambiamenti di cui non abbiamo ancora la minima consapevolezza e l'altra domanda invece riguarda appunto invece la politica cioè pensavo in questi giorni c'è stato il G7 sull'ambiente a Torino mi domando se mai la politica appunto abbia questo sguardo sui sistemi dinamici e si ponga il problema appunto della complessità delle relazioni tra i diversi parametri e sugli effetti perché il nostro grande problema è chi decide per milioni di persone non ha la consapevolezza delle conseguenze delle proprie decisioni e questo secondo me è un fatto che è comunque per certi versi veramente molto molto grave e neppure coloro che si candideranno appunto al Parlamento europeo la vaga sensazione è che pochi abbiano la consapevolezza di quanto sia necessario avere quantomeno un minimo di chiarezza ecco su questi temi quindi le due domande riguardano uno il livello dei cambiamenti di vita che magari quali potrebbero essere le conseguenze e l'altro è quello della politica non ti preoccupare Pinuccia stasera io e te andiamo in discoteca perché siamo giovanissimi ti invito e ti faccio vedere una cosa vedi qui su questo libro c'è questa pubblicità che siamo negli anni 1902 qualcosa del genere è scritto Dispense with a Horse e c'è questa immagine divertentissima di questi due tizi non so se li vedete bene lui c'è il cappello a cilindro lei c'è un cappello con i frutti sopra che vanno su quest'automobile e dice butta via il tuo cavallo che c'è quest'automobile però come glielo dicono la stessa cosa non c'è bisogno più del cavallo non sporca un po' meglio ma fa la stessa cosa del cavallo ma l'automobile ha cambiato completamente il mondo ma completamente come sappiamo tutti non è mai stata semplicemente una carrozza senza cavalle così come l'auto elettrica non è e non sarà mai semplicemente un'auto cosiddetta non convenzionale un'auto che non inquina è una cosa diversa è un'entità che cambia molte cose in modo molto diverso in modo molto però non ci riusciamo noi adesso a dire cosa succede come all'epoca nel 1902 quando questi due signori si sono comprati la loro prima l'automobilina elettrica probabilmente non riuscivano a immaginarsi il cambiamento che le automobili a motore termico avrebbero portato sulla società guardate che questo è un punto che è affascinante interessantissimo e secondo me non l'hanno capita i politici come detto giustamente tu Pinuccia ma forse anche bene che sia così perché io non l'ho capita io e non mi sentirei io se mi eleggessero al Parlamento Europeo di andare a dire alla gente fai questo o fai quello entro certi limiti il sistema si adatterà e funzionerà in una certa direzione il sistema sa benissimo qual è il futuro e ci sta andando e tutti i nostri modelli sono solo delle approssimazioni che cercano di rincorrere il tuo sistema ma dove stai? Davolo stai andando? aspetta perché il sistema lo sa e quindi io credo che non dovremmo cercare noi questo è un po' un problema secondo la mia ancora modesta opinione del movimento ambientalista che alle volte vuole forzare o dà l'impressione di voler forzare un po' la gente quando si parla di decrescita allora la gente si preoccupa mi vuoi far mi vuoi far morire di fame cosa che sicuramente gli ambientalisti non pensano ma riescono in qualche modo a dare l'impressione di forzare la gente a fare queste cose invece no noi come tecnici come predittori come costruttori di modelli non forziamo nessuno il modello ci dice certe cose ragazzi dai una domanda il modello ti risponde come l'oracolo di Delphi come la pitonessa viene edipo pitonessa sono io pinuccia immaginati di essere la pitonessa dell'oracolo di Delphi e ti resti a quello dice ora ti sposi tua madre quello ti manda a quel paese ma non è colpa tua pitonessa pinuccia se edipo si è sposato insomma è colpa sua perché non ha gestito la previsione dell'oracolo nel modo giusto scusa è partito questa cosa la pitonessa ce l'ho un po' in testo ultimamente scusa Enzo dicevi Enzo c'è Enzo microfono ecco microfono ce l'ho fatta e niente io volevo invece dire due cose sui modelli in qualche modo anticipo qualche cosa della prossima conversazione noi negli anni io facevo il progettista di macchine elettriche non di automobili elettriche di alternatori e di motori di grosse dimensioni e negli anni all'inizio degli anni 70 quando ho cominciato a lavorare avevamo dei programmi di calcolo che poi alla fine altro non sono che dei dei modelli perché anche se quelli più semplici cioè quelli più semplici quelli più frequenti erano dei programmi di verifica e a quei tempi cosa succedeva che uno impostava i dati faceva qualche calcolo a mano dopodiché alla sera le donne generalmente impiegate perforavano le schede e di notte girava il programma e il giorno dopo avevamo i risultati ora questo poi c'erano anche per i prodotti per le macchine corrente continua avevamo invece che dei programmi di verifica dei programmi di progettazione quindi concettualmente più vicini a quello che può essere un modello uno dei modelli che si utilizzano oggigiorno però quello che volevo significare è che nel nel caso di questi programmi di verifica a quei tempi appunto c'era praticamente un delay un ritardo di 24 ore perché uno faceva il foglio compilava il foglio dati dopodiché il giorno dopo gli arrivavano i risultati questo portava proprio perché comportava dei tempi di ritardo nei progetti portava la gente ad essere ad avere una consapevolezza della sensitivity dei parametri cosa che poi si è persa perché con i sistemi attuali io ho visto persone molto più giovani che lavorano ancora adesso questi hanno questi programmi che non lavorano più su vecchi ABM mastodontici ma su dei pc a questo punto cosa succede cosa succede che mentre prima uno aveva praticamente il know-how e il know-how delle macchine adesso non è più così perché è facilissimo fare del variante quindi non costa niente può girare cinque minuti su un pc per cui la conoscenza di queste macchine del design del progetto si è persa e mi aveva raccontato appunto un professore inglese che lavorava in tutto il mondo che secondo la loro esperienza erano una grossa società di consulenza ogni dieci anni si perdeva la conoscenza del prodotto volevo solo fare questa misera osservazione quindi questi i programmi di calcolo che sono molto cioè poi anche in altri ambiti ne parlerò la prossima volta c'erano dei modelli di simulazione molto più complicati che servivano ad esempio la simulazione dinamica degli impianti in particolare della turbina a vapore comunque erano molto più complicati però questo caso della perdita di conoscenza sul prodotto mi sembra una cosa importante mi trovi pienamente d'accordo Enzo in una forma rievemente diversa è quello che sta succedendo qui nel senso che si perde la coniezione con dei programmi effettivamente molto complessi anche qui su questo terra per tutti che è un IEM che è molto complesso e si perde la coniezione di che cos'è a mio parere è un programma può essere anche pericoloso questo qui perché se molta gente non l'ha capito per esempio questo programma qui almeno quello che ho capito io è fatto apposta per non mostrare collassi cioè non mostra l'effetto Zeneca non perché non lo potrebbe fare lo potrebbe fare ma è stato fatto in modo tale da focalizzarsi su come evitare i collassi però l'effetto può essere che la gente non lo capisce diciamo il collasso non c'è e questo è un errore che però tantissimi politici fanno non è facile parlare di un collasso possibile ma che non è avvenuto perché non abbiamo mai visto negli ultimi migliaia di anni di civiltà umana un collasso climatico come potrebbe arrivare nei prossimi decenni Sarei anche interessata di sapere cosa ne pensa Gabriella Taddeo che è un'esperta di intelligenza artificiale poi c'è una domanda però Giampiero Barbieri prima Sì buonasera a tutti grazie intanto per l'intervento per la lezione io volevo fare una domanda abbastanza semplice sempre riguardo ai sistemi che sono stati illustrati dal professor Bardi mi sembra di capire che erano sistemi sono sistemi dinamici piuttosto complessi sistemi dinamici non lineari visto che ci sono queste retroazioni continue tra tutti questi stock ora chiedevo questi sistemi arrivano sì probabilmente cercano di arrivare a definire a predire un risultato questo significa che sono in grado anche di prendere delle decisioni sono anche decisionali cioè il decisionale coincide con la previsione oppure è una cosa completamente diversa che esula dalla capacità di questi programmi no per fortuna nessuno ha mai detto al programma di prendere decisioni ed è bene che sia così per carità se no Dio solo sa cosa ti arriva addosso il problema che non è stato veramente capito è che non sono modelli previsionali su un sistema dinamico non lo puoi prevedere il sistema dinamico tipico immagino tu sai meglio di me è quello delle farfalle che batte le ali in Messico e fa venire un uragano a New York ma tu puoi andare a studiare quanto vuoi le farfalle messicane ma da quello non riuscirai mai a prevedere esattamente cosa succede a New York per cui questi sistemi quasi per definizione non sono predittivi sono analitici cioè ti dice appunto che succede se che succede se facciamo smettiamo di usare petrolio usando per esempio la tecnologia dei veicoli elettrici e qualitativamente qualitativamente ti dice che l'industria petrolifera crolla ma non non ti dice in qualche velocità non ti dice nell'anno del signore 2027 l'industria petrolifera va in banca rotta quindi questi sono grossi limiti che purtroppo pochi hanno capito certo è interessante insomma è molto interessante comunque Pinuccia ti faccio solo una cosa rispetto alla domanda che aveva fatto prima Marco il mio quasi omonimo a proposito dell'espansione dell'energia rinnovabile vi posso consigliare questo libro questo ottimo libro di Marco Giusti che è uscito anche questo adesso che è aggiornatissimo su tutto quello che dovremmo fare e che non vogliamo fare ma che potremmo fare per favorire la transizione io pienamente d'accordo lui spiega con estremo dettaglio perché è un tecnico di quelli di quelli con gli attributi come si suol dire che ti racconta tutti i dettagli tutto quanto è bellissimo questo libro leggete però perché ne vale la pena scusa il titolo qual è perché non si legge l'urgenza di agire ah l'urgenza di agire Marco Giusti molto bello pesantino non è una cosa però secondo me se non andiamo alla rottura questo l'energia rinnovabile non è in concorrenza diretta col petrolio che tu metti non è che mettendo le torri e oli che la gente smette di consumare benzina per cui a mio parere è altrettanto importante se non di più il discorso dei veicoli elettrici quello è veramente il pernio su cui gira tutta la faccenda grazie avevo incontrato Marco Giusti all'ultimo incontro di Aspo qualche mese fa vedi questo che cosa succede quando le cose cambiano cambiano molto molto rapidamente questo è bello dei sistemi dinamici quello che si diceva in dieci anni questa famosa questa cosa qui in dieci anni quasi zero veicoli al motore in poco più di dieci anni tutti i veicoli al motore questo secondo me può avvenire però non è solo pensate che non è solo un cambiamento ho comprato la macchina ho venduto il cavallo è tutto un cambiamento di infrastruttura che è avvenuto in tempi rapidi e che a mia opinione può avvenire rapidamente cioè con dei cambiamenti sociali urbanistici culturali che non ci immaginiamo nemmeno non ce li immaginiamo nemmeno tra le altre cose vedete questa casettina qui era casa mia quando abitava a New York volevo chiederti un ulteriore non so se Graziella Taddeo vuole Gabriella scusa Taddeo vuole dire qualcosa perché appunto ci tenevo alla sua opinione ma se vuoi un due cose posso dirle anche collegando a quello che abbiamo già fatto sì 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 allora dopo pongo dopo alla fine così magari vai vai Gabriella scusa sì allora intanto grazie a Ugo perché veramente ha dato una visione diversa e come se ti ricordi avevo messo anche nelle mie slide l'oracolo no? l'oracolo e l'intelligenza artificiale sì sì un'altra anche tu hai visto la somiglianza esatto sì sì proprio avevo io avevo la slide non ho fatto una lezione come te però c'era appunto gli algoritmi predittivi da una parte e l'oracolo di Delphi dall'altra argomento affascinante invito te a discoteca stasera scusa Pinuccio ma così facciamo di oracoli esatto avendo fatto il liceo classico era doveroso insomma il parallelo ecco no è stato molto interessante il discorso proprio delle complessità pian piano che sono state come dire introdotte per cui si è entrati nell'argomento mi è venuto in mente Parisi che ha preso il premio Nobel proprio sullo studio delle complessità per cui è il momento di studiare le complessità e parlavamo anche con la moglie che fa parte del gruppo di ecofeministe a cui noi apparteniamo ecco e mi viene da dire anche sulla base di quello che diceva Luisella proprio in risposta alle tue sollecitazioni che parlava dell'ideologia del progresso purtroppo noi ormai abbiamo capito che per noi il progresso è quello che è il capitalismo predatorio perché è di questo che si parla e noi femministi aggiungiamo capitalismo predatorio maschilista perché chi detiene il potere ancora vuoi delle delle grandi aziende vuoi delle grandi come dire linee del progresso e così via non parliamo delle armi adesso quello che si sta facendo la propaganda che si fa sulle armi giustamente tu hai parlato della propaganda contro l'elettrico e siamo proprio tutti vittime di questa cosa ed è difficile contrastare queste propagande perché sono fatte da persone che hanno un potere immenso per cui ti fanno il lavaggio del cervello e questa è la cosa che francamente preoccupa di più perché in effetti esiste anche il cosiddetto progresso della cura e come gruppi di donne soprattutto ma anche qualche uomo illuminato come diciamo noi prendersi e cura del pianeta della salute delle comunità delle città potrebbe effettivamente essere una nuova approccio verso il progresso utilizzando questo ben di dio che ci viene dato dalle tecnologie e io ho studiato anche i sistemi di smart city per esempio no sui trasporti su tutte queste cose qua il fatto di poter costruire il gemello digitale di una città dà dei vantaggi pazzeschi ma viene fatto raramente e dove viene fatto viene fatto a Barcellona o a Parigi dove ci sono due sindache mi viene da dire che hanno un approccio di un altro tipo se posso permettermi non è che c'è con gli uomini anzi io sono felice di averti conosciuto Ugo e tutti felicissimo andiamo a ballare una di queste serie Gabriella ecco ecco per cui diciamo siamo tutti giovanissimi siamo tutti giovanissimi nello spirito è quello che conta dai infatti allora i limiti del progresso bisogna trovare un equilibrio un equilibrio per salvaguardare le risorse e non esagerare coi profitti mi permetto anche di dire cioè mettiamo veramente Gabriella quello che sta dicendo è proprio quello che sto pensando io in questo periodo e ne sono felice la gente che si cerca di inserire le auto elettriche in un contesto che non è il loro cominciano a ragionare dice ma se io sono in un condominio di 20 piani dove metto non lo puoi fare ma il condominio di 20 piani non è fatto per l'auto elettrica sono due cose diverse è un come non va bene nemmeno per l'auto a benzina se sei in un condominio di 20 piani vuol dire che hai il trasporto pubblico disponibile ma si può parlare come dicevi te con la virtualizzazione almeno parziale perché nessuno può essere chiuso in casa di nuovo come è successo ma lo smart working non è una fesseria se impariamo a usarlo per bene che vuol dire che ha tutta un'esigenza di trasporto completamente diverso poi non hai più bisogno di questi grandi chiamiamo i casermoni come usava in un'unione sovietica ma puoi fare un mondo di villaggi di più umano esattamente le comunità proprio il senso della comunità del servizio è famosa la logica o le proposte di fare i servizi essenziali parlo a 15 minuti no? ma se hai un veicolo elettrico puoi vivere in un villaggio lo usi non come pendolare ma lo usi per una mobilità leggera ecco io penso andiamo io non voglio dire nulla di come lo vorrei crescerà nascerà come vuole lui e comunque quando hai un bambino lo vorresti in un certo modo poi ti viene come vuole lui la pressione la pressione propagandistica cioè veramente mantenere le cose che ci vengono proposte per cui guarda ti abbraccio tantissimo grazie ci siamo innamorati subito sì sì colpo di fulmine decisamente come 15 anni sì no volevo volevo solo dire una cosa però poi c'è anche Enzo così magari facciamo chiudere a lui no due cose volevo dire molto veloci uno che gli ecosistemi naturali si equilibrano tra di loro no cioè hanno un modo e allora in questo questo invece diciamo scenario che tu ci hai illustrato mostra come il nostro ruolo in questo caso è assolutamente da un lato da un lato sembrerebbe decisivo dall'altro le cose andranno secondo appunto una direzione che riguarda cioè che sono le spinte stesse dei sistemi ecco ma la mia domanda è forse l'intelligenza artificiale ci può essere davvero utile per 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 sia applicata in modo corretto per andare nella direzione quantomeno di salvaguardare il pianeta e l'altra invece è una curiosità ma il picco del petrolio è una volta partecipato a un convegno a Mosca con le sue città sostenibili con il compianto Antonio Lumicisi e c'era un suo amico che era un fisico che fece una relazione a un certo punto appunto Antonio mi chiamò e disse no ma guarda che lui ha già detto che il petrolio nel 2030 finisce allora io ho uno scontro continuo con la professoressa Ronzoni che purtroppo non è qui perché lei dice no non è vero sono buffale non finisce o quantomeno ecco allora volevo una tua se posso aspetta fammi vedere se ho qualche slide sul picco del petrolio queste sono le ultime slide ecco questi sono i conti che abbiamo fatto recentemente dicevo un modello semplice ma non è non è questo vediamo se le trovo ecco questi sono gli ultimi dati siamo qui li vedi questi a destra si plus si plus si quindi il picco per ora è stato il novembre del 2018 poi c'è stato la botta del covid e ora siamo ma non dare troppa retta a questo rosso che è molto allegro e secondo questo world shock model il picco potrebbe essere forse nel 2028 però sostanzialmente l'essenziale del discorso che tu dia retta a questo a questo non cresce più non ci si fa non cresce ulteriormente siamo siamo sul sul massimo va un po' su va un po' giù succede qualche bel disastro tipo una bella guerra vedi 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 altro che picco la stanno la stanno portando avanti questa guerra ci stanno ci stanno lavorando sopra esatto ci stanno lavorando sopra in maniera demenziale direi ma proprio micidiale tanto appunto si parlava proprio anche con Laura C ma veramente ci meritiamo l'estinzione se andiamo avanti così senza esagerare l'estinzione non c'è fretta per l'estinzione no no non c'è fretta però ti bastare ma vabbè mi fermo qua perché se no mi arrabbio Inzo io volevo sentire un po' da Ugo cosa pensava circa la transizione energetica per il semplice motivo che io ho due perplessità uno il fatto che appunto per quanto riguarda il decreto delle CER alla fin fine c'è stato un diciamo che c'è in qualche modo una sovvenzione fino a 5 gigawatt entro il 2027 quindi più o meno le agevolazioni per le CER sono circa per un gigawatt l'anno e l'altra cosa non mi sembra che in modo particolarmente congruente si stia portando avanti il discorso dell'accumulo e in queste condizioni si dice vabbè la rete è intelligente via dicendo però sarà intelligente quanto si vuole ma siccome si perde l'inerzia rotante dei gruppi non abbiamo quindi una produzione di base per cui il discorso dell'accumulo secondo me è fondamentale e non mi sembra che ci si dedichi questa grande attenzione appunto volevo sapere cosa ne pensate beh guarda Enzo io non sono un esperto di accumulo però ero la settimana scorsa all'RSE non so se sapete cos'è l'RSE ricerca sui sistemi energetici si sta lavorando sull'accumulo parecchio e sulle auto elettriche e io come chimico di origine vedo abbastanza bene la chimica delle batterie vedo effettivamente dei miglioramenti favolosi insomma sono sorpreso io stesso perché per tanti anni siamo stati con la batteria a piombo per cent'anni non c'era altro della batteria a piombo le batterie che non erano piombo erano peggio per tante cose poi a un certo punto è venuto fuori questa idea del litio che non è che il litio l'abbia inventato qualcuno il litio è sempre stato hanno inventato questa batteria che funziona ma è una meraviglia ma molto molto meglio un fattore 5 migliore della batteria al piombo in termini di rapporto peso energia immagazzinata ma non solo sta andando a questo punto come si dice si rompono le dighe arrivano tutti i tipi di batterie di tutti i tipi più strani e nuovi la batteria al sodio è una batteria che serve per l'accumulo non tanto per i veicoli quanto per l'accumulo e quindi ti promette di risolvere il problema che hai accennato che esiste indubbiamente esiste ora non sarebbe corretto da parte mia dire non vi preoccupate che inventeranno qualcosa che non funziona così però effettivamente siamo molto vicini a arrivare a una condizione in cui le batterie sono più che sufficienti per fare quella cosa che una volta facevano le turbine cioè la rotazione di accumulare quando la turbine faceva la stessa cosa accumulava quando c'era un eccesso di produzione e poi rendeva e le batterie fanno la stessa cosa il problema è l'accumulo invernale quando in inverno comincia a non esserci tanto sole ma c'è anche un poco vento a quel punto se non hai batterie cioè le batterie ce le hai per forza però se non hai se non hai produzione per un mese sei al buio ora qui questo è un punto che discute molto in dettaglio Marco Giusti in questo libro lui è ottimista lo dice con una miscela di eolico e fotovoltaico e batterie ce la fai anche in inverno non è detto a mio parere va un po' visto d'altra parte come dice Woody Allen a proposito di invecchiare non so se avete sentito questa battuta il mio obiettivo nella vita è diventare decrepito perché l'alternativa è peggiore allora anche per quanto riguarda le rinnovabili si dice non possono fare certe cose ma l'alternativa è peggiore bene bene io direi posso fare possiamo chiudere ti ringraziamo veramente tantissimo ho visto che anche un utente ha fatto un'osservazione ma ho visto che hai già risposto ottimo quindi dopo troveremo la conferenza e ovviamente la promuoveremo appunto sia su Facebook che su YouTube in modo tale da diffonderla ampiamente sia nelle scuole dove seguiamo e stiamo seguendo dei progetti sia appunto a livello più divulgativo quindi grazie al professor Ugo Bardi e grazie a tutti per avuto la pazienza ah sì prego scusami no no semplicemente ho seguito con molta attenzione stavo lo volevo invitare per il festival perché mi piace scusate mi piace molto la parlerei proprio fare una sezione una terra per tutti se vi piace il titolo che io trovo molto bello e quindi il suo intervento si collocherebbe molto bene il festival è il 26-27 di agosto se Ugo ti interessa sei dei nostri guarda guarda fammelo fammelo mandami un qualcosa sì naturalmente siamo ancora stiamo così non è proprio così immediata la cosa però mi sembra che il tuo discorso è molto importante quindi mi sembra prezioso per come contributo per il festival e quindi va bene sei dei nostri grazie va bene grazie per l'invito è un piacere a nome di tutti dell'Istituto Italiano di Bioetica buona serata comunque Seneca bisogna rivederlo un po' non è soltanto quello del collo il vecchio Seneca si merita una maggiore considerazione mi dici voglio spezzare un'arancia perché è stato uno dei miei filosofi preferiti ma è un oiettatore è un oiettatore ma no poveraccio ma poveraccio è suicidato ma ha avuto una vita talmente tragica un esempio di tale saggezza ciao lavoriamo anche per Cassandra dai già che ci siamo ciao ciao a tutti ciao a tutti è stato un piacere grazie per l'opportunità grazie per l'opportunità